Il Comune di Parma e la società ad S.P.A. si preparano all'evento rappresentato dalle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti. Come per gli anni precedenti, la società ha predisposto un piano straordinario per consentire a tutti i cittadini di visitare i loro cari nelle migliori condizioni di accoglienza e rispetto. Si tratta di un afflusso di migliaia di persone che nel corso di questo periodo particolare si recheranno presso i cimiteri comunali. Si pensi che solo al cimitero della Villetta ci sono più di 100.000 posizioni di defunti. Il programma delle iniziative per il periodo concentrato dal 24 ottobre al 2 novembre prevede una serie di attività dirette all'ampliamento dei servizi, con estensione degli orari di accesso del pubblico presso gli uffici e di visita presso i cimiteri, con turni appositi e intensificati delle presenze del personale. In particolare in questo periodo tutti i cimiteri rimarranno aperti in modo continuativo dalle 8 alle 17.30. Sarà riservata particolare attenzione a tutte le persone che hanno maggiori disagi per disabilità o difficoltà motorie. Dal 24 ottobre al 2 novembre funzioneranno diversi servizi aggiuntivi. Al cimitero della Villetta servizio gratuito di trasporto interno con due mezzi elettrici condotti da volontari del CRAL TEP di Parma. I cittadini disabili che non hanno la possibilità di recarsi al cimitero con i propri mezzi o con quelli pubblici potranno invece prenotare gratuitamente il servizio di trasporto dal domicilio al numero verde 800 977 995. L'iniziativa è resa possibile grazie anche alla collaborazione dell'assistenza pubblica di Parma.